Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 13 maggio, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. C'è sempre un dibattito molto alto sulla questione vaccini, come ben sapete nella giornata di domani è atteso in Trentino Alto Adige il generale Figliuolo, generale Figliuolo che proprio nella serata di ieri ha detto che da lunedì in tutta Italia si apre alle vaccinazioni per gli over 40. Come tutti i giovedì mattina abbiamo ospite qui nei nostri studi Diego Andreatta che è il direttore di Vita Trentina. Diego buongiorno. Buongiorno, buona giornata Marco. Allora, cominciamo ad analizzare, a scorrere la prima pagina del settimanale diocesano. L'apertura è dedicata alla giornata delle comunicazioni sociali e voi avete proposto una riflessione che avete girato a cinque giornalisti. La riflessione proprio sul messaggio del Papa, il titolo che avete scelto, lo vediamo, è Laggiù dagli ultimi. Papa Francesco ha ripreso una frase evangelica, vieni e vedi, per lanciare questa urgenza di un giornalismo più vicino alla gente, più vicino ai fatti, dobbiamo tornare a consumare le suole delle scarpe. E questo vale per i cronisti, abbiamo chiesto a cinque giornalisti, quasi tutti i trentini o comunque noti in Trentino, di dirci che cosa significa per loro, ma forse vale anche per ognuno di noi. Di questo avviso è l'Arcivescovo, l'Aurotisi, che ha scritto un messaggio per questa giornata che sarà celebrata in tutte le chiese, in cui osserva come il venite e vedrete, in fondo è una dinamica che dovrebbe essere presente appunto ad ognuno di noi. La prossimità, il toccare con mano per dare concretezza alle proprie idee e al proprio impegno. I cinque giornalisti che tipo di riflessioni propongono? Ricordiamo che la giornata accade proprio domenica, domenica 16 maggio. Ma sono di diverso segno, abbiamo affidato a ciascuno un capoverso del messaggio del Papa. Se vuoi un'idea è quella che in un'informazione sempre più globalizzata, anche la dimensione tipicamente locale, la vicenda della valle, del quartiere, del rione, assume un significato universale. Quindi è più importante che mai creare una rete fra questi fenomeni locali, fra questi fatti di Vangelo in alcuni casi, che possano entrare in un circuito più ampio. In fondo, se vuoi, è un po' la missione anche del nostro settimanale, penso anche della vostra televisione. È una sfida quindi a non farsi omologare da un'informazione globalizzata, che poi tende insomma a imporre il menù dei propri temi, ma riuscire dal basso a cogliere effettivamente quanto di buono si muove, quanto di positivo anche. Lo ravvisa lo stesso arcibiscopo che per esempio segnala come durante la pandemia sia stato un ritorno al sacramento della riconciliazione. Ed è questo un fenomeno che ad esempio è sfuggito anche all'informazione religiosa. In prima pagina, e così torniamo alla prima pagina di Vita Trentina, parlate delle giornate del FAI che metteranno in mostra alcuni tesori cembrani. Sì, è un appuntamento atteso. Ogni anno il Fondo per l'Ambiente italiano sceglie alcuni tesori. Quest'anno in particolare l'attenzione sulla Val di Cembra. Sono appuntamenti molto attesi, molto ricercati. Qui vediamo la presentazione. Anche Vita Trentina vuole mettersi al servizio di questa iniziativa culturale che si lega con i territori e con la promozione delle nostre località minori. Nelle pagine interne poi vi occupate anche del sito della Diocesi che viene notevolmente rinnovato. Sì, la ricorrenza anche qui è quella della giornata di domenica 16 maggio. È un sito sempre più cliccato anche nel periodo della pandemia, ha ospitato le dirette della messa celebrata dall'Arcivescovo. È un sito che si è rinnovato nella grafica e che rende più visibili le tre aree di impegno diocesano con le loro iniziative settimanali. Un sito che lavora in parallelo con il sito informativo del nostro settimanale è più invece orientato ad un'informazione anche sociale e politica e siamo contenti di sottolineare come anche il sito cerchi di mettersi sempre di più in relazione con i numerosi siti parrocchiali, sono più di una trentina, che animati da altre tante redazioni web sono cresciute anche nel periodo della pandemia. E' questo anche dinamismo di rapporto tra chi fa informazione sul territorio e chi sta al centro. E ci sono stati veramente dei grandi cambiamenti e una forte accelerazione, immagino in questo senso, proprio in questi ultimi mesi, anche per quello che riguarda proprio il settimanale diocesano e la versione online. Sì, certamente si tratterà di non disperdere appunto le esperienze che abbiamo fatto, trattenendo quanto di positivo abbiamo sperimentato. Si è molto parlato, soprattutto nella giornata di ieri, della Cattedrale di Trento, che dal 17 maggio, quindi da lunedì, di fatto chiude, chiude fino al giorno del Santo Patrono, al giorno di San Vigilio, perché proseguono i restauri. Sì, una chiesa che chiude fa sempre notizia, tanto più la nostra cattedrale. Immagino poi che nella sua storia secolare, a parte i periodi bellici, non ci siano stati molti altri stagioni di chiusura così totale. E' per motivi di sicurezza, evidentemente, ma i tecnici che seguono da due anni questa imponente campagna di restauro assicurano che per San Vigilio tutto tornerà a posto e si potrà celebrare il Patrono con il Pontificale Solenne. Quindi, ovviamente, chi vorrà andare alle celebrazioni dovrà andare in altre chiese, diciamo così, limitrofe di quella zona del centro. C'è un programma alternativo, ma per fortuna, insomma, non mancano le possibilità. Ci sono degli sviluppi che voi documentate dell'operazione Perfido e proponete, offrite anche un podcast, se non sbaglio. Sì, lo segnaliamo meglio. L'operazione, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è quella che nell'ottobre, insomma, ha portato anche al rinvio a giudizio di una ventina di persone, anche alcuni imprenditori nella zona del Porfido, segnalando delle pericolose infiltrazioni che, peraltro, già la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, aveva segnalato negli anni precedenti. Il podcast di cui dicevi è stato realizzato da un collettivo di studenti universitari legati all'Associazione Libera, e punta a documentare, proprio sulla base dell'investigazione, di che cosa si sta parlando. Ma su questo si sofferma anche il nostro editorialista Vincenzo Passerini, che a partire dall'esempio coraggioso del magistrato siciliano, Rosario Angelo Livattino, che è stato beatificato proprio domenica scorsa, ci richiama l'importanza di saper anticipare la diffusione dei fenomeni mafiosi. Da questo punto di vista, l'inchiesta, l'indagine denominata appunto Perfido-Porfido, deve farci rizzare le antenne dell'attenzione e della vigilanza critica. Assolutamente. Nelle pagine interne poi parlate anche dell'Assemblea di Azione Cattolica, ma non solo. Sì, è l'Assemblea nazionale che si è tenuta online, ha visto anche una partecipazione di delegati trentini, e poi l'altro evento della settimana è questo testo del Papa, che istituisce la parola sbagliata, riconosce la figura del catechista e la rilancia. La referente diocesana Beatrice Iob ci spiega qual è la novità di questo riconoscimento ad una figura che è molto diffusa anche nelle nostre parrocchie. Trentino e Brasile è un sentire comune, c'è una pagina con alcune testimonianze che avete raccolto. Sì, attraverso la Trentini nel mondo e la cooperazione trentina, sono varie le associazioni impegnate nel paese latinoamericano, si creano dei rapporti sui quali è stato fatto il punto la settimana scorsa. Dalle valli, Diego, questa settimana che cosa è che ci segnali di particolarmente interessante? Abbiamo un'iniziativa nel Basso Sarca, appunto attorno alla Sarca, il corso d'acqua che è al centro di un'attenzione di tipo ecologico, e poi altre iniziative in cui la difesa per l'ambiente si coniuga con una forte dimensione comunitaria e sociale. E questo è un tema che affronteremo, lo posso anticipare anche nel prossimo numero di Vita Trentina. E lo sfoglieremo poi insieme. C'è l'inserto questa settimana Comunione e Missione. Di che cosa vi occupate? È l'inserto mensile del centro missionario. Due temi di questa settimana. Uno è ancora quello dell'informazione sul mondo impoverito, il secondo è quello del commercio d'armi, un argomento di cui si trovano riferimenti anche nel numero di Vita Trentina in edicola questa settimana. Dicevo in apertura che nelle prossime ore sarà ospite in Trentino Alto Adige il generale Figliuolo. Ecco, tu come vedi, come sta andando la campagna vaccinale? Ha messo quella marcia in più che tutti auspicavano? Tu hai avuto anche esperienze personali in tal senso? Sì, direi proprio che sì, c'è stato un balzo in avanti positivo. Anch'io sono fra i vaccinati che ne hanno goduto. Ho sperimentato anche una buona organizzazione del sistema della vaccinazione. Credo che con la pazienza e con la collaborazione di tutti si possano risolvere e archiviare definitivamente le problematiche legate alle prenotazioni che avevamo avuto in passato. Questo clima di maggiore sollievo credo che ci dovrebbe responsabilizzare ulteriormente a far sì che anche la prossima fase scorra all'insegna del rispetto e dell'attenzione anche verso chi ancora deve ricevere il vaccino, i nostri giovani in particolare. Qui stiamo proprio vedendo nelle immagini che ci trasmettevano dalla regia il drive-thru. Tu mi pare hai avuto proprio quell'esperienza. Com'è che giudichi appunto questa modalità così particolare di somministrazione del vaccino? Direi voto otto e mezzo. In dieci minuti ho completato l'opera e ho trovato personale preparato, molto gentile e anche una constatazione dell'efficacia di questa modalità, anche per le persone anziane perché non le costringe a muoversi e quindi ben venga il potenziamento di questa formula anche con la nuova struttura che si va predisponendo. Non so se si arriverà in tempo per l'arrivo del generale ma insomma sarà questione di giorni. Eh sì perché probabilmente il maltempo ha spostato in là di qualche giorno la realizzazione finale. Prima di salutarti Diego, ancora qualcosa da segnalare la vita trentina che mi sono dimenticato? Ma pagina 2 facciamo un po' le pulce ad una dichiarazione a nostro avviso un po' improvvida del governatore Fugatti a proposito dei migranti, questo appello generico insomma ridurre il numero degli sbarchi e degli arrivi, questo richiamo insomma ripetuto all'Europa che peraltro è incondivisibile mi sembra o ci è sembrato insomma una dichiarazione un po' stonata soprattutto nel momento in cui abbiamo molti naufragi e insomma ci permettiamo, credo che sia anche nostro compito di criticare Fugatti per questa sua uscita di pochi giorni fa, peraltro accolta e questo preoccupante da un certo consenso sui social e dal rilancio della stampa nazionale che pure di una parte di stampa nazionale che cavalca questo tema. Io ringrazio molto Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina che come tutti giovedì è stato nostro ospite. Grazie a te, grazie a voi.